I più anziani lo ricordavano nella chiesa di San Francesco prima che venisse abbattuta in seguito al sisma dell'Ottanta. I più giovani non lo avevano mai visto. Il dipinto del pittore fiammingo Wetzel Koberger, datato 1590, raffigurante l'annunciazione custodito nel palazzo Vescovile di Ariano, per la prima volta reso fruibile al pubblico nell'ambito dell'iniziativa I tesori nascosti della Campania, a cui l'Istituto Ruggero II ha aderito. Guide speciali gli studenti del liceo artistico, appassionati di storia dell'arte. Ti piace la storia dell'arte? Sì, tanto. È una delle mie materie preferite. Una tela molto importante. Che cosa raffigura? Allora, raffigura l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria nel momento in cui appunto annuncia dell'arrivo del bambino Gesù. È resa nei minimi dettagli appunto perché è una pittura fiamminga che curava molti dettagli. È una tela ad olio e come possiamo vedere le vesti di Maria sono del colore classico del rosso e del blu ed è seduta sul lato destro del dipinto con a fianco un tavolo con sopra un libro. Possiamo anche notare un gioco di mani tra la Vergine, l'angelo e il creatore. E al centro c'è la colomba che rappresenta lo Spirito Santo. Ecco, ma tu immaginavi che ad Ariano ci potesse essere un'opera d'arte così importante? No, sinceramente non lo sapevo. Infatti sono contenta. È stata una bella scoperta. Tantissimo. Insomma, Ariano ha un grande patrimonio che non sempre è conosciuto. Sì, ce ne sono diversi di questi elementi da conoscere che magari sono sconosciuti ai tanti e tramite la scuola magari all'arroggio secondo si possono approfondire e vedere meglio. Diciamo, le persone della sua generazione ricordano questa tela perché stava nella chiesa di San Francesco, però molti giovani non ne conoscono proprio l'esistenza. Assolutamente, non possono conoscere. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, frequentavo la chiesa perché ci andavamo pure a messa e c'erano delle bellissime cose, bellissimi quadri. Il Vescovato apre le sue porte ai visitatori e agli studenti per conoscere alcuni dei tesori nascosti, in questo caso la tela dell'Annunciazione. Sì, è una bella opportunità anche incontrare tanti giovani, soprattutto questi giovani della nostra città, della nostra diocesi, che si adoperano per illustrare e per accogliere tante persone, per far conoscere soprattutto un patrimonio culturale e spirituale che è custodito nella nostra diocesi.